Abbiamo affrontato una serie di problematiche tecnologiche molto spinte e sono state risolte con notevole impegno da parte dei settori tecnici della RAI, fa parte proprio di un impegno che la RAI sta ponendo nell'innovazione tecnologica, nella spinta verso la tecnologia che il vertice aziendale ha molto a cuore, quindi questo episodio non è un episodio isolato, ma fa parte di un mosaico, è davvero se si vuole la punta di diamante di un percorso e di un'attività che porta la RAI ad essere di nuovo protagonista e quindi dare un contributo forte dal punto di vista tecnologico nell'ottica della RAI servizio pubblico verso anche un rinnovamento tecnologico, l'innovazione e quindi se si vuole un impulso verso il superamento della crisi e il superamento quindi della situazione contingente rispetto ad una eccellenza della cultura, della tecnologia e delle bellezze naturali dell'Italia.